Questo è il nostro articolo Nibbio. Abbiamo usato molto questi nomi tratti da specie di rapaci. È una scarpa che ha una bella caratterizzazione perché ha una punta bella, simpatica, ed è realizzata col sistema della costruzione che si chiama Ideal Montato. Questo vuol dire che la pelle interna gira attorno al piede, lo avvolge di un tubo di pelle ed è sostenuta da un sottopiede di cuoio, questa pelle che gira intorno al piede, mentre la pelle esterna gira all'opposto e viene cucita su un sottopiede di cuoio. Questo significa che il piede viene perfettamente climatizzato perché fra l'interno, la fodera interna e l'esterno, si crea un leggerissimo strato d'aria che climatizza il piede. Questa scarpa si può portare d'estate e anche d'inverno. Le pelli all'interno sono sempre le nostre pelli che hanno sempre un buon odore, assorbono sempre perfettamente il sudore, e in più l'abbiamo fatta per donne che vogliono portarla come se fosse una scarpa da ginnastica. Perché dobbiamo portare sempre le scarpe da ginnastica quando andiamo a camminare? Noi abbiamo realizzato questa scarpa con una suola che ci siamo costruiti noi, che è fatta un po' a barchetta, va bene, e che è elastica, si può usare in tutte le occasioni e per tantissime ore al giorno, senza mai che la gamba provi stanchezza. Questo è il nostro articolo nibbio e l'abbiamo costruito in due colori, il colore cuoio e il colore testa di moro. Le pelli sono a concia vegetale anche all'esterno, ed è una scarpa di una salubrità, di una robustezza e di una longevità straordinarie. Naturalmente, come tutte le nostre scarpe, sono tutte riparabili.